Buongiorno, mi chiamo Marcello Darbo, sono sociologo del Servizio Sanitario Nazionale a Ferrara. Mi occupo di bullismo dal 1997 e volevo presentarvi questo libro, Il Bullismo è cannibalismo mentale, che è il secondo che faccio e che ripropone la teoria, l'unica che spiega come nasce il bullismo, propone una unità didattica più elaborata della prima edizione e delle relazioni di docenti sul lavoro svolto e di come si siano trovati bene con i ragazzi a parlare di etica. In ultimo, cannibalismo mentale esagerato, la violenza ferisce e inibisce lo sviluppo del cervello in formazione, proprio quello dei bambini, degli adolescenti e dei preadolescenti, questo non deve accadere.